Un nuovo compito per la giunta, sovrintendenza scrive il comune per chiedere di informare i carabinieri sulla centralina. Ben 73 per una nuova seduta di consiglio comunale con la giunta pavana politica in letargo. La nuova politica comune allarga le auto in centro, da stasera è ridotta la ZTL. Un tretto ottenne di Loria muore in un incidente sull'autostrada A4 a Portogruaro. Nuovo assalto a Sportello Bancomat a San Giorgio in Bosco sulla Val Sugana. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Bassano Tg. Avete sentito dai nostri titoli. La sovrintendenza scrive al comune di Bassano e anche ai carabinieri chiedendo agli amministratori di vigilare sul cantiere della centralina che un privato vuole costruire sul Brenta. Il comune di Bassano scrivono informi i militari di qualsiasi inizio dei lavori che possa violare le norme di tutela sull'ambiente. Il nostro primo servizio. La sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio lo ha scritto chiaro e tondo con numero di protocollo 2383. Con una lettera al comune di Bassano e per conoscenza al ministero, alla ditta Belfiore 90 e soprattutto ai carabinieri, tutela patrimonio culturale, nucleo di Venezia, si chiede al comune stesso di effettuare la vigilanza in via Pusterla dove un privato vorrebbe far sorgere l'ormai famosa centralina idroelettrica in pieno centro storico a due passi dal monumento nazionale del Ponte Vecchio. Quella stessa centralina che Taglia Nostra 24 ore prima aveva definito progetto scellerato con tutto il prestigio della sua associazione. La sovrintendenza si richiama agli articoli 27 del DPR 380 2001, all'articolo 45172 del Codice dei beni culturali del paesaggio, per farla breve. L'articolo del Codice che parla di distanza e integrità da un bene culturale, e le sanzioni corrispondenti che vanno anche all'anno di reclusione. Ma ricordano anche gli articoli che prescrivono l'obbligo di vigilanza e di segnalazione a carico del sindaco e degli amministratori, dicendo in modo esplicito che il comune effettui la vigilanza e comunichi qualsiasi tipo di attività di inizio lavori. Altrimenti, viene da pensare, si potrebbe configurare in astratto un reato di omissioni, di atti d'ufficio, reclusione dai sei mesi ai due anni. Insomma, sulla vicenda centralina Elena Pavano dovrà ancora darsi parecchio da fare per evitare che la città di Bassano si trovi a dover affrontare un cantiere privato che più privato non si può, con ricadute invece pubbliche che più pubbliche non si può. I carabinieri ora sono ufficialmente informati dalla soprintendenza il comune di Bassano anche prima che inizino i lavori, perché è difficile pensare a una recinzione di alcuni cartelli come inizio lavori e prima che sia troppo tardi, come tema Italia Nostra, perché quello che definiscono scellerato progetto diventi un'inopportuna e irreversibile realtà. Due mesi e mezzo dall'ultima seduta della Consiglio Comunale, dal 23 dicembre al 5 marzo. Natale, Capodanno, Epifania e poi San Valentino, Carnevale, Mercoledì delle Ceneri. Tutte le feste il Consiglio Comunale di Bassano si porta via, nel senso che fra una seduta dell'Assemblea Cittadina e l'altra passeranno 73 giorni. Calendario alla mano dalla riunione ordinaria del 23 dicembre fino alla prossima seduta fissata per il 5 marzo. Sono quasi due mesi e mezzo senza che maggioranza e minoranza si riuniscano per parlare e decretare sulle necessità della città. Questa scelta da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Elena Pavan si innesta inoltre su una media di consigli comunali che molti in città ritengono decisamente bassa. Una media, dicevamo, di sei consigli su nove mesi di giunta Pavan per un nuovo corso inaugurato neanche un anno fa sotto il bandierone sventolante del si cambia. Vabbè ma si fa così, dirà qualcuno. E allora si va a spulciare quanto avvenuto con la precedente amministrazione e si scopre che nell'era Poletto la media era di un consiglio al mese, agosto escluso. E chi mastica di politica in municipio fa sommessamente notare che, oltretutto, nel primo anno di amministrazione le cose da fare sono o sarebbero davvero tante. Ma tant'è, per vedere una nuova riunione del Consiglio Cittadino bisognerà aspettare l'arrivo del mese di marzo, forse perché con l'avvicinarsi della primavera anche la democrazia fiorisce con più vigore. O forse no? E restiamo sempre a Bassano con le ultime novità sugli orari della ZTL in centro. 5 febbraio 2020 partono i nuovi orari della ZTL in centro storico a Bassano, differenziando come già annunciato le due fasce primavera-estate e autunno-inverno. La rimodulazione della zona a traffico limitato nel cuore della città scatterà alle 23.30 e rimarrà attiva fino alle 5.30 della mattina seguente, dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana centro storico Flimitz per le auto dalle 23.30 di venerdì alle 5.30 del lunedì successivo. Rimane confermata la regolamentazione vigente per i mercati del giovedì e del sabato e per via Angarano. I nuovi orari della ZTL rimarranno attivi fino al 31 marzo. Dal 1 aprile al 30 novembre torneranno invece gli orari in vigore finora, con centro chiuso ai veicoli dalle 20.30. Parliamo ora di un tragico schianto in acquatto all'altezza di Porto Gruaro. A perdere la vita un 38enne di Loria. Il giovane era alla guida di un furgone e stava andando a fare delle consegne in provincia di Pordenone. Era partito all'alba la guida del furgone per il giro di consegne nel Pordenonese come faceva ogni mercoledì. Ma a Valvasone, dove era diretto, non è mai arrivato. Luca Fochesato, 38 anni, residente a Castione di Loria, è morto in un terribile schianto in A4 tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Il giovane era dipendente del salumificio Scapochin di Legnaro e per l'azienda stava andando ad effettuare delle consegne in Friuli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Dai primi accertamenti pare che il furgone condotto da Fochesato abbia tamponato violentemente il tir sloveno che lo precedeva. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Luca Fochesato, nativo di Montecchio Maggiore nel Vicentino, abitava da qualche anno a Castione di Loria dove si era trasferito dal vicino comune di Castello di Godego. Ultimamente, per essere più vicino alla sede di lavoro, aveva trovato un alloggio nel Padovano. La notizia della tragedia ha suscitato cordoglio in paese e tra i colleghi di lavoro dove Fochesato si era fatto apprezzare sul piano professionale ed umano. Era un dipendente modello, dice la titolare tra le lacrime. Mai una multa, mai un'infrazione, sempre puntuale e preciso nel lavoro. La nostra è una ditta familiare continua e Luca era uno di noi. La sua improvvisa scomparsa è un colpo grandissimo. Fochesato, oltre al lavoro, aveva la passione della cucina e del canto. Sconvolti i compagni del coro di cui faceva parte, il movie chorus di Rubano e Busiago, avevano anche cantato lo scorso Natale a Roma in Vaticano per il Papa e domenica prossima avrebbero dovuto esibirsi per l'opening del Carnevale di Venezia con un concerto in Piazza Ferretto. Luca Fochesato lascia i genitori, la sorella e una nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Infiltrazioni mafiose in Veneto, udienza preliminare del processo per l'operazione Camaleonte. In 38 hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Sono 38 gli imputati del maxiprocesso contro le infiltrazioni andranghettiste nel nostro territorio che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Nell'aula bunker di Mestri si è svolta l'udienza preliminare dedicata alla discussione delle difese del processo Camaleonte in cui sono imputate 54 persone per vari reati connessi a favoreggiamento mafioso dell'andrangheta in Veneto. Un sistema di estorsione e riciclaggio scardinato dai carabinieri che vedeva ai vertici il clan della famiglia Bolognino, Sergio, Michele e Francesco vicini alla cosca del grande Aracri. I tre si erano stabiliti da anni a Rosane e il Bassanese ed erano diventati soci della ditta GS Scaffalature di Galliera Veneta. Dall'aggressione al titolare di quell'azienda era iniziata l'indagine che aveva portato alla luce il sistema di false fatturazioni per riciclare il denaro e le minacce e le intimidazioni a degli imprenditori veneti. Dei 54 imputati dunque 4 hanno avanzato ipotesi di patteggiamento condizionato comunque alla rifusione del fisco per quanto sottratto con le false fatture. 38 invece hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. La sentenza è attesa per il 18 febbraio, giorno in cui il giudice deciderà l'accoglimento dei riti alternativi e si esprimerà sui rinvii a giudizio. Per chi verrà messo all'abbreviato l'udienza di discussione si terrà a maggio. Decine gli imprenditori intimiditi da questo sistema, pochissimi però quelli che si sono costituiti parte civile. E continua l'emergenza legata alle forti raffiche di vento che da ieri soffiano sui rilievi del Bassanese e Piedemontana. La regione dirama lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Il forte vento continua a creare gravi problemi sui rilievi del Bassanese e sulla Piedemontana. Sul Monte Grappa alcuni alberi sono caduti sulla sede stradale e sull'altopiano dei sette comuni i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago hanno dovuto far fronte a un gran numero di chiamate per alberi crollati, rami spezzati e segnali divelti dalle folate. Molti degli impianti di risalita dell'altopiano sono rimasti fermi proprio a causa delle raffiche impetuose. A Salcedo i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campo di Rondo per rimuovere dei rami che erano caduti sulle linee elettriche. Sul posto anche i tecnici dell'Enel per la messa in sicurezza della rete. Nel frattempo la regione ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutta la provincia. Le condizioni meteo, climatiche e vegetazionali sono infatti tali da mettere a rischio l'intera area montana dove l'assenza di precipitazioni rende estremamente vulnerabili boschi e aree verdi. E le minoranze in Consiglio Veneto chiedono che si tenga un'assemblea straordinaria per intrecciare una gestione del flaggello della cimice asiatica. Un Consiglio regionale straordinario per tracciare una strategia contro la cimice asiatica. E questa è la proposta che PD, Leo e 5 Stelle lanciano alla regione perché si affronti in modo decisivo l'emergenza rappresentata dal parassita, un vero e proprio flaggello per l'agricoltura veneto. Il Consiglio regionale veneto raccoglie il grido di rabbia lanciato dalle associazioni di categoria agricole durante la fiera di settore di Verona. Parliamo di oltre 200 milioni di danni alla frutticoltura e ad altre culture. C'è bisogno di un'azione molto forte di contrasto a questa cimice e c'è bisogno di cominciare a studiare quali saranno le ricadute di cambiamenti climatici sulla agricoltura del Veneto in altre regioni e lo stanno già facendo e quindi anche su questo fronte va bene contrastare di più la cimice asiatica ma bisogna prepararsi a quello che potrà succedere in futuro. Il tema dei cambiamenti climatici è legato a doppio filo con quello della proliferazione dei parassiti compresa la cimice asiatica. Allo stesso tempo questa situazione climatica in continua evoluzione andrebbe a colpire altre specie di insetti che potrebbero invece rivelarsi determinanti per combattere in modo naturale l'invasione delle cimici. Si parla di 160 milioni e circa 8.000 aziende colpite da diversi settori, in particolar modo la frutticoltura ma anche altri settori. In questo la regione deve assolutamente stare accanto a questi agricoltori per quanto riguarda la partita del sostegno economico per ristorare i danni ma soprattutto andare a capire le cause e tra una delle cause principali c'è la questione dei cambiamenti climatici che spesso qui in consiglio viene trascurato o derise. Dal punto di vista pratico come vi state organizzando? Cosa presenterete in A? Presenteremo che ci sia durante il consiglio straordinario che venga fatto uno studio per capire l'impatto dei cambiamenti climatici come ha inciso su questo tema in Veneto. Il Partito Democratico guarda alle elezioni regionali e serve un'antizaia ma non solo, serve un progetto e Giacomo Possamai ne è uno, si chiama Patto per il Veneto. Partito Democratico c'è un domani ma non è ancora l'alba. Lui è uno dei futuri possibili, Giacomo Possamai nella cantera del PD è sicuramente uno dei giovani di talento, giocherà un ruolo importante nelle partite che arriveranno, a cominciare dalle regionali del 2020. Politico made in Vicenza, già capogruppo in consiglio comunale, ha capito per primo che i DEM hanno una chance, quella di aprirsi alle liste civiche, ai mondi, alle categorie, al sindacato, alla cooperazione. Per questo ha lanciato il Patto per il Veneto. La vittoria di Bonaccini, pur in un territorio molto diverso dal nostro, deve essere di ispirazione perché Bonaccini ha capito che anche in Emilia Romagna il PD da solo non bastava più e che dovevamo aprire, dovevamo aprirci alla società e pensare a liste civiche e a strumenti per parlare con tutti. Credo che questo sia il messaggio forte che è uscito da quel voto e sia il motivo per cui poi la Lega è uscita con le ossa rotte dalla partita in Emilia Romagna perché gli Emiliano Romagnoli hanno capito che Bonaccini era una figura vicina al territorio e che Salvini il giorno dopo le elezioni sarebbe tornato a casa sua, mentre Bonaccini sarebbe rimasto lì a governarli. Lo stesso messaggio dobbiamo costruirlo qui. Sfidare Luca Zaia con un progetto nuovo, aperto alla società, senza arroccarsi in circoli chiusi. È questa la proposta che Giacomo Possamai ha rilanciato in occasione della direzione regionale del Partito Democratico. E siamo alla rubrica E io chiamo Rete Veneta perché continuano numerose le segnalazioni di voi telespettatori che denunciano l'inciviltà di chi abbandona rifiuti. Degrado abbassano tante le foto che i nostri telespettatori hanno inviato a Rete Veneta per segnalare situazioni di sporcizia e incuria dovute soprattutto all'assenza del senso civico delle persone. Come quello che una nostra telespettatrice definisce il solito angolo. L'angolo è tra via Carpellina e via Madonna di Monteverico, nella zona sud della città, nell'immediata periferia. Rifiuti ovunque, vedete, sacchetti, cartacce, che tra l'altro il vento di questi giorni ha sparpagliato nei campi, dando una pessima impressione di quelle che invece dovrebbero essere aree curate di prestigio, dove vengono coltivati tra l'altro i prodotti tipici della nostra terra. Ci spostiamo di qualche chilometro all'entrata della superstrada in via Rivarotta, in zona marchesane, nell'area di sosta prima del ponte verso Rosà. Anche in questo caso le foto che sono arrivate a Rete Veneta mostrano la totale inciviltà di chi non si fa alcuno scrupolo a imbrattare un già troppo fragile e sempre più delicato ambiente, chi insomma viene definito, da chi ci scrive, maleducato seriale. E continuate quindi a mandarci foto e video di situazioni di degrado che vedete vicino a casa vostra, sempre via Whatsapp al 340-321-8379 oppure scriveteci un'email. A Colceresa ladri in azione fanno sparire denaro e gioielli. Colceresa, ennesimo furto in abitazione, i ladri hanno colpito Amazon Vicentino in via Nogaredo vicino alla scuola media. I proprietari si sono accorti in serata, rientro dal lavoro, trovando tutto a soccuadro. I malviventi sarebbero entrati da una finestra posta al pieno terra dopo averla forzata con un piede di porco. Spariti denaro e gioielli, indagano i carabinieri. E un imprenditore dell'alto piano ha processo perché accusato di furto d'acqua. Roana è accusato di furto aggravato e continuato ai danni dietro a un sessantenne asiagese che si sarebbe allacciato abusivamente con un contatore dell'acqua che andava a servire 14 alloggi di un residence da lui gestito in località Tresca e Conca. Nello specifico, invece di un contatore per appartamento, ne avrebbe utilizzato uno unico accumulativo, ignorando la richiesta dell'ente gestore di mettersi in regola, fino a quando proprio Etra non ha messo i sigilli. I fatti risalgono nei mesi a cavallo tra il 2014 e il 2015. Il sessantenne si sta difendendo in tribunale dichiarandosi innocente. A Tiene l'amministrazione comunale ha dato un importante contributo alle donne vittime di violenza. Tiene dal comune un contributo di 32 mila euro per sostenere la casa della solidarietà che accoglie donne singole, madri con i loro bambini che si sono allontanate da situazioni di violenza in famiglia. La struttura è in grado di ospitare sei persone grazie a due nuove stanze allestite per dare supporto concreto. Da quando è stata aperta, 12 anni fa, ha accolto 77 donne e 53 minori. Secondo colpo nel giro di pochi giorni ad un bancomat nell'alta Padovana. I malviventi hanno preso d'assalto uno sportello a San Giorgio in Bosco. Assalto al bancomat nella notte tra martedì e mercoledì a San Giorgio in Bosco. Nel mirino dei banditi, lo sportello della filiale della Banca Popolare di Verona lungo la Val Sugana. I carabinieri del nucleo radiomobile di Cittadella sono stati allertati dal sistema antisfondamento dell'istituto di credito. Arrivate sul luogo hanno constatato che i malviventi avevano forzato la bocchetta di erogazione dei contanti che però non ha ceduto. Nulla di fatto quindi per i malviventi che sono riusciti però a scappare. Gli uomini dell'arma stanno vagliando i filmati delle telecamere della zona. È il secondo assalto ad uno sportello bancomat nel giro di pochi giorni nell'alta Padovana. Slot machine in funzione anche durante orari non consentiti e da una telefonata al 117 è partita un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 5 macchinette in un bar cinese di San Giorgio delle Pertiche. Funzionavano senza sosta in barba alla legge regionale dello scorso ottobre che impone orari in cui le slot machine devono essere fermate. È grazie a una telefonata al 117 che la Guardia di Finanza di Padova è arrivata al sequestro di 5 slot machine in un bar di San Giorgio delle Pertiche. Accertati i fatti, segnalati dall'anonimo cittadino, le fiamme gialle hanno verificato che nel locale gli apparecchi, pur correttamente collegati alla rete telematica dei monopoli di Stato, erano in funzione anche in orari non consentiti dalla legge che mira a proteggere le fasce della popolazione a rischio ludopatia. Da qui il sequestro delle slot machine per l'imprenditore, disposto una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio. Diamo uno sguardo agli ospiti che saranno in diretta questa sera a Focus a partire dalle 21.15 e saranno Raffaella Buzziola, Renzo Lotto, Gennaro Marotta, Luigi Susin, Elisa Venturini e Alberto Villanova, quindi non perdete l'appuntamento. Vediamo ora gli SMS e le previsioni del tempo di domani. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Grazie a tutti. Ben trovati al meteo, pressione in ulteriore rinforzo con tempo sempre asciutto e stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 6 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento, bel tempo dunque senza piogge particolarmente degne di nota. Cielo al massimo poco nuvoloso, attenzione solamente a locali gelate anche in pianura. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, valori massimi invece fino a 12 gradi circa. Non cambia di molto la situazione anche a Vicenza, nella città di Passano del Grappa in particolare. Sarà stabile e anche ampiamente soleggiato, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Clima un po' più freddo con temperature minime sotto zero. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci.